Iniziata l'indagine di Customer Satisfaction su alcuni servizi offerti dall'amministrazione comunale di Battipaglia. Il sondaggio, cosiddetto di gradimento, realizzato attraverso appositi questionari consegnati ai cittadini di Battipaglia, riguarderà i servizi cimiteriali, politiche scolastiche, demografici, i rifiuti, SUAP, ma anche il verde pubblico. I cittadini dovranno compilare i questionari e consegnarli presso la portineria di Palazzo di Città, all'interno di un'urna. C'è tempo fino al prossimo 20 gennaio 2019 per esprimere il proprio giudizio su questi servizi e fornire quindi dati utili all'amministrazione per migliorarli o apportare modifiche.